Salve a tutti amici videomaker, bentornati su questo canale. Oggi faccio finalmente uno dei video che sto preparando da davvero tanto tempo. E' uno dei pochi video, delle poche recensioni, dove ho dedicato tantissimo tempo e tantissimo lavoro per la prova di questo prodotto. Sto parlando della Lumix S5, una delle fotocamere che più mi ha sorpreso da quando è stata presentata. Beh, sicuramente potrete dire, ma perché una recensione di una fotocamera uscita circa due anni fa, parliamo un anno e mezzo fa, parliamo dell'uscita e della presentazione intorno a ottobre 2020. Quando è stata presentata, io avevo tantissimi dubbi e tantissime remore su questo corpo macchina, ma davvero tanti. E quindi dopo averla provata, dopo che mi è piaciuta davvero tanto, ho detto, ok, prima di parlarne devo veramente testarla. E' così? E' praticamente una recensione che faccio dopo quasi un anno di lavoro. E sì, perché poi la Lumix S5 è diventata la mia fotocamera principale con cui lavoro, registro i contenuti, registro video, creo le mie cose sostanzialmente, tutto con lei. E questo dà circa un annetto, forse poco meno di un anno. Ma per arrivare al punto di quello che voglio raccontarvi, che non è una recensione dove elenchiamo le caratteristiche tecniche, perché ripeto, non è una camera di primo pelo, questa recensione vuole essere le mie vere esperienze e il mio vero rapporto con questa camera su come l'avevo considerata all'inizio e su come poi si è trasformata nel tempo. Cominciamo con il raccontare da dove vengo, il mio percorso con il mio corpo macchina. I miei corpi macchina sono sempre stati vari, tuttora sono vari perché tra l'ufficio e tra le altre produzioni comunque utilizzo tantissimi corpi differenti, ma io ho sempre deciso di avere un corpo per me per tutte le mie attività, per la maggior parte delle mie attività. Poi di caso in caso si va a valutare qual è il corpo migliore da poter utilizzare. Allora, da dove vengo? Vengo sicuramente da un lungo periodo con Sony, un periodo con Fuji e un enorme periodo sempre con una camera di Panasonic. Parliamo della Lumix GH5. Perché ho voluto fare questo passo? In realtà aggiungo anche Canon a questo enorme elenco. Perché ho voluto fare questa premessa? Perché c'è un enorme scontro, giustamente il mercato è molto ampio e vi sono tantissime possibilità sul mercato, e c'è un enorme scontro tra cosa è meglio, chi è peggio, perché una camera, perché un'altra. Io, tutto questo serve, questa premessa serve a far capire che io ho provato per tanto tempo tanti altri corpi macchina e se ritengo, se ho ritenuto questa camera adatta alle mie esigenze, un motivo ci sarà. Vi dicevo che sono andato da un periodo lunghissimo con camere come GH5. GH5 è stata una delle mie camere preferite, ed è tuttora una delle mie camere preferite. In realtà è proprio il sistema micro 4 terzi, uno dei sistemi che apprezzo davvero tanto, che però ho abbandonato circa un anno fa, proprio perché non vi era quell'aggiornamento tecnologico che mi aspettavo, che potesse venire da nuovi corpi macchina, che potesse venire da nuove lenti, e poco dopo, naturalmente, il mio abbandono ai miei 4 terzi, poi sono subentrate tutte le nuove uscite presentazioni e annunci anche di casa Panasonic, come ad esempio con la GH6. Ma ci arriveremo un pochino più avanti al rapporto tra le due. Quindi, faccio un attimo un recap di quello che è la camera. La camera è una full frame, una camera full frame con un sensore MOS da 24 megapixel, con uno stabilizzatore IBIS incorporato, che può recuperare fino a 6,5 stop. Abbiamo due slot per le schede SD, una batteria con un concetto abbastanza intelligente, che è quello di retrocompatibilità con le batterie delle serie precedenti, nonché con la serie GH, quindi la serie micro 4 terzi di casa Lumix. Un buon schermo ribaltabile, un buon viewfinder, insomma, è un corpo tutto abbastanza buono, tutto abbastanza buono. Ed è questa la cosa che mi sconvolgeva un pochino. Quando è stata presentata la S5, è stata dichiarata un pochino, leggendo le recensioni, la versione full frame di una GH5. E questo mi ha davvero tanto incuriosito. Quando poi ho cominciato a vedere il materiale, naturalmente mi sembrava molto più una Lumix S1, una Lumix S1R, una S1H piuttosto che una GH. Questo perché naturalmente parliamo di sensori differenti, che hanno un approccio differente, quindi sono sempre stato un pochino lontano. Per i primi mesi ne sono stato lontano, fino a che poi non l'ho provata. Ed ho riscontrato tantissime cose che avrei voluto nella serie GH. In primis un corpo più leggero e più piccolo. Sì, potrà sembrare strano, ma la S5, in confronto alla GH5, alla GH5 Mark II e alla neonata GH6, è un corpo più piccolo. Un corpo più piccolo che ci porta ad avere una cosa più leggera in borsa, una cosa ancora più compatta di una camera con sensore micro 4 terzi, ma con un sensore full frame. Quindi per me è stata poi una rivelazione quando l'ho provata con mano. Un'altra cosa che mi faceva rimanere lontano dalla S5 era il mondo Lumix S, quindi il nuovo mondo, virgolettato, che era nato in casa Panasonic, con l'accordo con Leica e Sigma per la creazione di questo attacco universale, l'L-Mount per intenderci. Al momento della presentazione dell'S5 non vi erano tantissimi elenti, insomma un corredo era un pochino complesso da mettere insieme. Le uniche lenti disponibili sul mercato erano quelle più costose. Parliamo del 24-70 f2.8, una lente tuttofare che un po' tutti i brand hanno e che naturalmente, nella sua versione con una qualità superiore, naturalmente aveva un costo maggiore. Fino a quando poi Sigma ha cominciato a presentare i suoi modelli un po' più economici. Infatti è arrivato a un certo punto il Sigma 28-70 f2.8, una lente compatta, leggera, per me di alta qualità, e Sigma naturalmente l'ha prodotta sia per Sony che per l'attacco L-Mount, e sono riuscito poi ad acquistarne una, e porca miseria, era una lente fenomenale. Io la prima volta che ho avuto l'S5 l'ho provata con il 24-105 f4, e una lente bellissima anche quella, un po' grossa, un po' come tutti i 24-105 di nuova generazione, sono comunque belli grossi, ma per le mie esigenze l'f4 mi andava davvero stretto, anche perché sono un professionista che cammina con una sola lente e mi ritrovo molto spesso in circostanze dove non c'è luce, quindi almeno il 2.8 devo averlo. Poi sono arrivati i fissi, è arrivata l'ottima gamma di fissi Lumix, molto intelligente come gamma, perché partiamo, per ora di gamma c'è 24-35-50-85, tutti quanti f1.8, un sistema di lenti davvero ben fatto, e cosa molto intelligente, che hanno tutti quanti quasi la stessa dimensione, quasi lo stesso peso, cosicché per chi utilizza queste camere, ad esempio sui gimbal, può bilanciare una volta con una lente, e su per giù il bilanciamento funziona con qualsiasi lente si mette avanti. Io le ho provate tutte e sono rimasto davvero molto colpito, e la realtà dei fatti è che non costano neanche tanto. C'era Sigma che aveva presentato, e aveva in line-up una serie di lenti fisse per le mount, che poi ha fatto anche per Sony, erano abbastanza interessanti, ma erano di metallo, cosa buona, ma dall'altro lato pesavano un pochino in più. Ho provato qualche lente Sigma, parlo naturalmente di queste serie di Prime, e mi sono piaciute meno rispetto a quelle Lumix. E quindi nel tempo ne ho comprate e vendute un po' tutte, e mi sono innamorato del 24 mm, che è un lotto bellissimo, molto bello il 35, il 50 deve piacere come lente, come taglio focale, ma era una gran lente, e ho ottenuto l'85, perché a me piace far ritratti, quindi come passione avere l'85 in borsa è sempre una cosa fondamentale. Mentre dall'altro lato poi, ho ottenuto il mio tuttofare per eccellenza, che è il 2870. Ma ho in borsa anche la lente kit. Ora, di solito, in tanti, la lente kit tendono ad abbandonarla subito, perché funziona bene per gli amatori. In realtà la lente kit che ha fatto Lumix Panasonic, in questo caso, è stata una lente kit molto intelligente, perché non è partita dal solito 28 mm, ma è partita dal 20 mm. Infatti la lente kit che troviamo in abbinata è un 20-60 mm, che è una vera lente tuttofare, e si avvicina molto a quella ultra professionale fatta da Panasonic Leica con il micro 4 terzi, che è il 10-25, che in rapporto full frame sarebbe 20-50 mm, che è quella lunghezza focale che normalmente si utilizza di più quando si lavora. Il 20-60 non è assolutamente male, infatti l'ho ottenuto solo e esclusivamente per il 20 mm, perché ci possono essere delle condizioni dove utilizzare un 20 mm è davvero una cosa importante, e una lente 20 mm separata mi sarebbe cosata tantissimo. Invece una 20 mm f3.5 non è assolutamente male per dei panorami con tanta luce. Ho fatto un enorme premessone di quello che è il mondo Lumix S, perché ho dovuto girarci bene dentro, capirlo, per poi affezionarmi a questo corpo macchina. Per questo ho voluto fare questo grande recap. Adesso vediamo un pochino quali sono i punti di forza, e non parlo dei pro, ma parlo dei punti di forza di questa camera. Quelli che ho trovato come punti di forza molto interessanti sono la possibilità di registrazione del 10-bit in camera. Molti potrebbero non capirlo, in molti lo hanno su altre camere, ma non lo apprezzano. Registrare in 10-bit in camera significa poter avere dei file molto più profondi per lavorare in color correction. In molti possono dire sì, ma c'è la possibilità di attaccare registratori esterni. È vero, ma è vero anche che ci sono circostanze dove è preferibile utilizzare quanto meno peso in gombro si abbia sul corpo macchina per essere veloci. Ci sono tante circostanze come situazioni di run and go, che possono essere situazioni redazionali, eventi, documentalistica spinta. Insomma, ci sono tante situazioni dove più si è leggeri, meglio è. Quindi avere la possibilità di registrare un file più profondo in camera è davvero molto interessante, se non che per alcuni fondamentale. Poi abbiamo la varietà di formati. Varietà di formati intendo la possibilità di poter registrare in Ultra HD, quindi in 4K televisivo, Full HD, quindi il classico Full HD, e abbiamo il Cinema 4K. Sarebbe il 4K cinematografico. In realtà la bella distinzione è Ultra HD e 4K. Sono due cose separate. Il 4K è inteso per il cinema, l'Ultra HD per la televisione. ma abbiamo questa possibilità comunque di poter registrare questi due formati ed è importante perché con l'Ultra HD possiamo spingerci fino a 50 fotogrammi al secondo, cosa che vediamo molte fotocamere adesso attualmente sul mercato. Competitor come Sony con la sua 7.4 sono arrivati a registrare gli stessi identici formati, quindi arriviamo all'Ultra HD a 50 fotogrammi al secondo con la stessa pecca, con lo stesso limite. ma ne parlerò più avanti. Abbiamo la possibilità quindi di registrare da 24 fotogrammi al secondo fino a 180 fotogrammi al secondo in variable frame rate ciò significa una funzione che ci permette di registrare con frame rate variabili senza audio e con un crop del sensore. Ma possiamo ottenere comunque l'audio fino ai 60 fotogrammi al secondo ed è secondo me il limite corretto per quel tipo di formato. E poi un'altra delle grandi possibilità che abbiamo è il vlogging il vlogging camera non il vlog il vlog in camera ossia la gamma dinamica di Panasonic ed è probabilmente addetta anche dei creatori di DP review è una dei dei log delle curve di gamma dinamica più belle da colorare e più profonde. Tant'è che questo vlog in camera ci dà la possibilità di arrivare fino a 14 stop di gamma dinamica di recupero che è una un numero davvero davvero eccellente. Questa cosa naturalmente poi si estende ancora di più con il fatto che abbiamo la possibilità tramite registratore esterno di poter registrare in progress raw con il ninja 5 o il ninja 5 plus io ho provato il ninja 5 plus non ricordo se anche il ninja 5 quindi probabilmente sì. E' una delle gambe dinamiche più belle posso dire che io le lavoro le gambe dinamiche ci lavoro tantissimo con i formati log e quello di Panasonic è sempre stato quello per me più estremo quello che mi dava enormi possibilità di recupero e non parlo del raw attenzione non sto analizzando ancora il raw parlo proprio di quello registrato in 8 bit o in 10 bit è quello che mi dava più maneggevolezza di recupero nelle alte luci e nelle basse luci quindi su questo concordo con DP Review che per me è uno dei più belli che ho provato ora se questa era una infarinatura di tutte le possibilità quello che adesso voglio elencarvi sono quelli che in questo anno ho trovato come pro e come contro di questa camera cominciamo naturalmente dai pro abbiamo un'uscita raw in 5.9k fino ai 25 fotogrammi al secondo con HDMI e con registrando con il Ninja 5 Plus o il Ninja 5 adesso non ricordo il Plus sicuramente ma il 5 probabilmente anche abbiamo la possibilità di utilizzare lenti anamorfiche perché il sensore ha la possibilità ed è impostato per tutte le funzioni per gestire l'anamorfico quindi possiamo registrare in crop in APS-C con lenti create per l'anamorfico con lenti anamorfiche questo può essere un enorme punto di incontro con tanti filmmaker che adorano quel tipo di look e di pasta delle lenti anamorfiche poi qui andiamo su un punto che è molto soggettivo la qualità dell'immagine la pasta dell'immagine ho avuto in competizione con S5 tante camere in quest'ultimo periodo per me S5 ha sempre vinto gusto molto personale e soggettivo naturalmente pensate che in ufficio abbiamo fatto un cambio tecnologico siamo passati a Canon R5 e stavo valutando addirittura il passaggio anche io ad una Canon un R6 nel caso per affiancare dove doveva servire anche per utilizzare tutto il parco lenti che stavamo cambiando avrei avuto dei vantaggi in realtà poi andando a scontrare proprio a mettere vicino un R6 e un S5 per diversi giorni ho fatto diversi test non sono riuscito ad abbandonare la S5 perché la qualità dell'immagine la pasta non tanto la qualità ma la pasta i colori c'è qualcosa che mi piace molto di più rispetto ad esempio a Canon e Canon un gioco di colori una pasta di colori davvero molto profonda però vi ripeto questo è un concetto molto ma molto oggettivo e più che darvi la mia esperienza dovete provarla anche voi poi come detto all'inizio uno dei più grandi è avere un corpo più piccolo e più leggero anche di una micro 4 terzi come ad esempio la GH5 e GH6 appena presentata ora GH6 non ho avuto ancora modo di provarla ma sicuramente per me è un corpo diverso da S5 con altre possibilità ma probabilmente io le affiancherei per farci due cose completamente differenti non sono due corpi che possono andare in competizione perché sono due sistemi differenti il micro 4 terzi ha un concetto e un senso di esistere il full frame invece ha ancora un'altra cosa per esempio se la GH6 la immagino dedicata ai filmmaker la S5 la immagino dedicata ai videomaker perché è una macchina che davvero ha tantissime possibilità e non solo videomaker e attenzione anche per i fotografi secondo me è una camera che può dare delle enormi soddisfazioni una cosa che aggiungerei che non è mai da trattare poco è la batteria la batteria io ho difficoltà a scaricarla è vero che non sono un grande utilizzatore quando utilizzo la camera tendo a accenderla e spegnerla quindi mai lasciarla accesa ma ci sono state in questo anno delle circostanze dove ho avuto sempre la camera accesa per una giornata intera e la batteria non si è scaricata cioè non sono mai arrivato a dover cambiare la batteria e le ho riempite le schede sia di clip video che di scatti ora non ho quantificato e non sono riuscito a quantificare quanto materiale ho registrato prima che di cambiare la batteria ma il feel che ho avuto rispetto ad esempio a Canon utilizzato Canon nelle stesse circostanze con Canon ho dovuto cambiare più spesso batteria e poi un'altra cosa che apprezzo di Lumix è il fatto che abbia fatto un sistema di batterie retrocompatibili dove le nuove funzionano solo con S5 ma le vecchie perché ha ancora batterie della GH5 perché è venuto da quel mondo può comunque utilizzarle su questa camera quindi apprezzo questo cambiamento e questa filosofia che in realtà ho visto anche in altri produttori ma comunque da notare da raccontare e poi ci sono tutta una serie di piccole chicche che io ho utilizzato preferito come per esempio per lo scatto fotografico il 6K mode dove abbiamo la possibilità di scattare fino a 30 fotogrammi al secondo in modalità praticamente registra un video a 6K utilizzando tutto il sensore e poi praticamente prende un fotogramma per volta e abbiamo la possibilità di avere 30 scatti per secondo possiamo arrivare fino a 60 scatti se passiamo in modalità 4K quindi queste funzionalità io le ho utilizzate e mi sono ritrovato molto ma molto comodo poi abbiamo tutta una serie di funzionalità dedicate al mondo del video come detto abbiamo la possibilità di poter montare lenti anamorfiche e una cosa fondamentale che su altre camere non c'è il timecode qui abbiamo la gestione del timecode via HDMI che è una funzione molto importante quando per esempio si ha a che fare con altri sistemi che leggono il timecode mi viene proprio in mente il ninja 5 quindi un monitor esterno registratore che legge il timecode e registra anche quel codice fondamentale per tantissimi altri passaggi quindi ci sono tante piccole chicche che rendono questa macchina davvero davvero interessante arriviamo ai limiti o meglio i contro beh io ne ho trovati due e sono i due contro che mi fanno comunque ancora a sorcire il naso e sperare tanto in un breve futuro in qualche aggiornamento il primo contro è il 4k registrato a 50 fotogrammi al secondo e 60 sì in 10 bit perché abbiamo questa possibilità ma solo ed esclusivamente in modalità crop quindi in APS-C questa cosa quando è stata presentata mi ha disturbato è stata uno degli elementi che mi ha creato un po' di disturbo però poi l'evolversi e il mercato hanno comunque dato ragione in parte all'UMIX che per mantenere il costo basso perché ricordiamoci sempre che questo è un corpo macchina che costa all'incirca 1500 euro quindi andiamo a confrontarci con i top di gamma APS-C ma è una full frame dato comunque ragione al mercato l'UMIX perché poi Sony con la sua Sony A7 IV ha fatto esattamente la stessa cosa possiamo registrare in 50 frame al secondo ma sempre in crop mode quindi in APS-C e quindi questa cosa poi mi ha fatto apprezzare ancora di più Panasonic perché aveva già capito prima come interpretare il mercato e come aiutare come dare una funzione in più senza però far pagare tanto di più il corpo solo per quell'aggiunta per esempio Canon con R6 poteva fare la stessa cosa se riusciva a mantenere un prezzo più basso e poi l'ultima seconda pecca che davvero lì purtroppo continua a rimanerci male è l'autofocus l'autofocus se si è migliorato rispetto alla GH5 parliamo sempre di due segmenti differenti di due line up differenti ma tendo a metterla in competizione perché hanno lo stesso mercato quindi GH5 e 6.5 hanno esattamente lo stesso mercato vengono dalla stessa casa produttrice quindi il paragone va fatto rispetto a GH5 l'autofocus di S5 è migliore più performante ma comunque non super reattivo come quello delle competitor mi viene in mente Sony mi viene in mente Canon ma anche la stessa Fuji il sistema autofocus a contrasto di S5 rimane comunque più lento di tanti altri di tanti altri sistemi di messa a fuoco e questa è l'unica grande pecca di questa macchina si sperava tanto nella GH6 che introducessero l'autofocus a fase ma non è stato così e quindi ancora Panasonic sta sviluppando e cercando di migliorare la tecnologia dell'autofocus a contrasto speriamo quindi che il fatto che stiano lavorando così tanto su questa tecnologia porti a migliorare le macchine già presenti sul mercato con degli aggiornamenti firmware perché se stanno sviluppando la parte software questa tecnologia vuol dire che probabilmente potranno migliorare con degli aggiornamenti software anche le macchine già presenti sul mercato macchine come macchine più costose rispetto alla S5 come la S1H che è un mostro del video la S1H ma che soffre dell'autofocus del sistema di autofocus che è lo stesso che troviamo su S5 quindi tra S5 e S1H se una persona vuole entrare nel mondo full frame di Panasonic beh S5 è un ottimo punto di partenza perché praticamente ti apre il mondo a tutte le possibilità che ti dà l'S1H e dopo con un S1H vicino si possono esplorare sistemi ancora più compressi ma con S5 si riesce a fare gran parte del lavoro e io ho parlato tanto per i fotografi per i videomaker ma in realtà tutto il reparto fotografico di Lumix io lo apprezzo tantissimo c'era un fotografo che io seguivo sui social non ricorderò mai il nome se me ne ricorderò ve lo scriverò che è stato un ambassador Lumix per tanto tempo io l'ho conosciuto e non sapevo che lui era ambassador Lumix e mi ha fatto innamorare degli scatti che faceva utilizzando prima micro 4 terzi G9 GH5 e poi con l'S5 forse l'ambassador era un po' di parte ma i risultati erano palesi lo scatto a me piaceva certo andiamo in competizione poi con il mercato fotografico che è tutto un altro mondo rispetto a quello video ma diciamo che per il mio mondo per quello che ne faccio io per i miei gusti soggettivi beh la reputo questa camera davvero ai livelli di tante altre camere ora come detto a chi la consiglio qui faccio una ripremessa siamo in un mondo faccio una recensione un anno di utilizzo dopo e un anno e mezzo dopo che usci da questa camera e nel momento in cui è stata presentata ed uscirà a breve sul mercato la GH6 quindi la competizione tra questi modelli è sicuramente alta ma vi ripropongo quella che è la mia idea la GH6 è una camera realizzata per i filmmaker coloro che per professione devono creare contenuti in tante circostanze diverse con condizioni differenti e probabilmente con condizioni più controllate mentre S5 secondo me è dedicata ai videomaker tutti quei professionisti che realizzano video per mestiere con condizioni di luce ad esempio meno controllata perché se il sensore micro 4 terzi ha necessità di avere un controllo migliore della luminosità un sensore full frame come S5 diciamo che può avere anche un po' meno luce i 12000 ISO sono utilizzabilissimi perché sono molto ben puliti quindi anche qui Panasonic ha fatto degli enormi passi avanti rispetto ai sensori micro 4 terzi giustamente per il sensore più grande non sono comparabili ma è un sensore davvero molto ma molto utilizzabile anche in condizioni di scarsa luminosità il mio consiglio da professionista è mai superare dove possibili 6400 ISO ma con questa camera anche un tocchetto dopo si può andare il file è ancora ottimo quindi se l'ho consigliato ai videomaker lo posso consigliare come secondo corpo a chi ha una S1H oppure un ottimo corpo fotografico abbinato a S1 e S1R che sarebbero le sorelle maggiori del comparto per la parte fotografica mentre per esempio preferisco S5 e S1 per la parte video perché S5 è anche più piccola e compatta rispetto a S1 che comunque è una bella camera pesante come anche S1H è una bella camera con un bel diciamo bella decisa bella bella pianotta quindi il resoconto è a me S5 è piaciuta davvero tanto e l'ho fatta diventare per un anno la mia camera preferita la mia camera principale con cui sono andato sui set ho lavorato ho fatto le mie fotografie ho creato i miei contenuti ho girato tantissimo materiale in questo anno e ne sono rimasto pienamente soddisfatto insomma sono arrivato alla fine di questo mio percorso all'interno della S5 era un video che volevo fare da davvero tanto tempo e mi sono preso il tempo giusto per poter ragionare su questa camera per potervene parlare e farvi vedere anche qualche immagine perché poi era giusto anche portarvi dei contenuti che vi mostrassero anche quello le possibilità e la capacità di questa camera insomma io spero che questo video sia stato utile a qualcuno di voi che è indeciso nell'entrare nel mondo Lumix e di affidarsi sia una S5 per i propri lavori e perché no questa camera per il costo e per il budget che ha è davvero interessantissima anche per un amatore che vuole fare il botto e vuole passare a un full frame di altissima qualità insomma cos'altro dirvi scrivetemi qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate e venite a seguirmi anche su Instagram insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video un nuovo video un nuovo video